Il compositore Baldini era diviso a metà, come se un'accetta gigante scesa dal cielo lo avesse tranciato lungo la colonna vertebrale. La metà sinistra era seduta, con la mano ancora posata sulla tastiera del mix, e un'espressione assolutamente normale sul volto. Imbalsamato, emesso di profilo, forse nessuno si sarebbe accorto che era defunto. La metà destra era caduta, qualche metro più in là, aggrovigliata in modo orribile, e uno spasmo di dolore contorceva la mezza mandibola. «Shock dell'emisfero cerebrale sinistro e corrispondente parte destra», disse il dottore. «Così fulminio che il dolore non ha raggiunto l'altra parte del corpo. Così è la morte per rasoiata da laser». «Possiamo dire», sorrise Atarva, «che per metà è morto serenamente». «Possiamo», concesse il dottore, mentre con aria professionale indingeva i suoi strumenti nella mezza ragosta dell'emisalma. Atarva consultò febbrilmente i dati degli ultimi lavori di Baldini. Baldini era addetto alla difesa del sistema informatico dai virus, in primis i virus di realtà. Recentemente era alquanto depresso perché un virus misterioso aveva distrutto 90 milioni di informazioni sui campionati di calcio 1960-1980. Per fortuna conosceva i risultati a memoria. L'insuccesso, però, lo aveva reso nervoso, ma nessuno avrebbe immaginato quel gesto estremo. «Questo è il messaggio che avete trovato?», chiese Atarva. «Sì», disse il poliziotto. «Era sulla stampante del computero». «La vendetta sciama», fa la polizia con diverse voci. Addio, Veronica Lake. «Che ci capisce qualcosa?», disse il capo della sicurezza interna, capitano Mazza. «Mi sembra tutto chiarissimo. Si è ucciso con il laser disegnatore, ha invertito il flusso, sapeva farlo», disse calmo Atarva. «Sto parlando del messaggio. Secondo me voleva dirci qualcosa. Qui c'è lo zampino degli sciama». Atarva si mise a ridere sgangheratamente. Il capitano gli fece cenno di smetterla. «E quella frase sulla polizia? E Veronica Lake?». Era la sua attrice preferita, metteva sempre il suo ologramma nei filmati. Aveva anche una bambola meccanica di gomma identica a lei, che usciva la sera. Mi ricordo che una volta si sgonfiò una prima teatrale e il rumore fu assai imbarazzante. «Io dico che questo è un attentato sciama», disse Torvo Mazza e uscì con aria rabbiosa, strascicando la coda dell'uniforme. Atarva rise nuovamente, diede un'occhiata al parco con poteri della sala. Al suo occhio esercitato non sfuggiva un solo particolare. «Perché è così sicuro che non sia un attentato?», disse il dottore. «Non è forse vero che alcuni sciama immigrati clandestinamente stanno preparando azioni contro di noi?». «Verissimo», disse Atarva, «sarò io a occuparmene». «In che senso? Dovrò far arrivare gli sciama in città, far loro compiere aggressioni, rapine, attentati, eccetera, ma ancora non ho cominciato, quindi non sono stati loro a uccidere Valdini. Loro sono ancora nel mio cassetto». «Cosa significa?», chiese stupito il dottore. «È semplice. Gli sciama non esistono più». «Lei conosce bene gli sciama, crudeli e atei, con le loro pitture di guerra, i loro sfrenati costumi sessuali, le loro malattie contagiose. Da anni la loro guerra fratricida è affettuosamente seguita dai nostri organi di informazione. Guardando i loro massacri si dimenticano tutte le altre guerre. Tutte le guerre sembrano ragionevoli se confrontate alle atrocità della guerra sciama. Sparandosi feti incendiati, torturandosi con gas chimici, avvelenando hamburger, acquedotti plasmon, gli sciama rendono giustizia alle nostre puntuali operazioni di polizia, alle nostre doverose repressioni, alle nostre sacrossante rappresaglie. Guardando una nostra nobile parata militare, possiamo pensare che queste siano le stesse armi usate nella guerra sciama? No, certamente. Vuole sapere la verità, dottore? La guerra nel paese degli sciama iniziò vent'anni fa quando fu scoperta la papara. La papara è un albero, è un albero masticando la cui corteccia gli sciama sono immuni da infarti, hanno grande potenza sessuale e vivono in media fino a 120 anni. Essendo il presidente degli sciama rilluttante a vendere le piantagioni di papara, il nostro paese pensò bene di armare i suoi oppositori. A sua volta il presidente fu armato da un altro paese. 36 paesi intervennero nella gara di aiuti militari alle fazioni sciama. All'inizio della guerra c'erano tre carri armati e mezzo per abitante. La guerra durò due settimane, non sopravvisse neanche uno sciama. La papara si rivelò un fallimento. Quando era già pronto il lancio per il cibo più ecologico della terra, si scoprì che per ottenere i benefici effetti bisognava mangiarne 5 chili al giorno. Questo per gli sciama non costituiva un problema, essendo la papara il loro unico cibo. Ma per un civile consumatore occidentale era impossibile, essendo la papara un misto tra una carta assorbente e un baccalà, con vago sapore di fecaloma. Centinaia di tonnellate di papara marcirono nei magazzini, ma ha sorso un problema ancora più urgente. Come sostituire le crudele immagini della guerra sciama che tanto beneficio benefico ribrezzo avevano suscitato negli spettatori? Come rinunciare a frasi ormai entrate nel gergo corrente tipo non siamo mica sciama o non comportarti da sciama? Semplice. La guerra fu prolungata con un componimento di realtà. Al materiale di repertorio vengono aggiunte scene filmate in studio. Un'equipe di sceneggiatori militari curò le varie puntate. Da quattro anni la guerra è sempre più frenetica e crudele, ma non esiste. La inventiamo noi ogni giorno. Esistono molte guerre vere sulle quali possiamo benissimo sorvolare. La guerra sciama invece deve continuare e la prossima puntata, come lei dice, è l'invasione delle nostre città da parte dei sanguinari sciama. Attentati, sabotaggi, omicidi, tutto nel mio cassetto. Prossimamente sul vostro schermo. Balle, disse il dottore e raccolse in fretta i suoi strumenti guardando con paura a Tarva. Lo aveva sempre trovato strano. Non c'erano le sue note mediche nell'archivio. Nessuno aveva mai visto altro che quel po' di faccia che spuntava dal suo bizzarro abbigliamento. Non era mai stato malato e forse, ma era meglio svegnarsela. Mentre i poliziotti portavano via i resti mortali di Baldini, a Tarva, scivolò silenziosamente nella saletta dei computeri privati. Riconobbe subito il vecchio personal del compositore capo con la foto di Veronica Lake e i soldatini nordisti. Con un lampo di soddisfazione notò che era acceso su un elenco di linguaggi. Li fece scorrere. Lui fa la polizia con diverse voci, pensò a Tarva. La prima versione della terra desolata di Elliot. Elliot Juan, linguaggio parodico per falsi discorsi funebri di capi di Stato, chiave di accesso alle composizioni. Due parole. Troppo facile. Veronica Lake batte il dito di a Tarva e sullo schermo dopo pochi secondi apparve il messaggio segreto di Baldini. Per chiunque riesca a decifrare il mio testamento. Mi uccido perché non riesco più a sopportare l'orrore degli ultimi filmati sciama. Sono diversi dagli altri. Sta succedendo qualcosa, non so più cosa. Lascio la mia Veronica al dottor Grabinski perché la metta vicino allo suo Schwarzenegger di Pongo. Possa Dio avere pietà della mia anima lercia. Il Gerarca è un porco. Addio. A Tarva restò impassibile. Con una rapida operazione distrusse per sempre la memoria del testamento dal computero e dalla pietà degli uomini. Quando arrivai al paradiso, il quartiere dei palazzi del lente spettacolo, decine di pullman scaricavano esseri umani per i provini. Un grande tabellone luminoso indicava le entrate per la selezione e gli ultimi dati di audience. Il mio contatto doveva avvenire all'entrata 4, quella per sassofonisti, camminatori su braci e pubblico colto. Decine di ragazzi e ragazze in maglietta con la scritta I love son fiero e berretto da carabiniere anni 50 si accalcavano davanti a pochi poliziotti impasticcati. Urlavano in varie tonalità dall'isterico all'esausto. Cercai di farmi largo tra i fan ma non era facile. Mi ritrovai in mezzo abbracciato a una tombolotta fardata che colse l'occasione per vederci meglio salendomi sulle spalle. Peso? chiese educatamente mettendomi una scarpina da ginnastica in bocca. Stia comoda, risposi. Chi è questo son fiero? Non conosci son fiero? Son fiero di esser quello di paese mio. Senza di te non so star neanche un po'. Una ragazza alta così tu sei. amore carabiniere è vero che il tuo cuore a volte fugge. L'amore è un gabbiano. C'è un suo concerto? tagliai corto. No disse la tombolotta. Aspettiamo di entrare per il provino ma lui non ci sarà. Mettono su la sua musica e noi giù a urlare, strillare, sgranfignarci la ghigna, dar di matto. Poi se passiamo il previno da entusiasti allora veniamo ammessi alle riprese tv del concerto. Mi viene male solo a pensarci. Potrebbe lanciarmi per favore così guadagno qualche metro? La lanciai. Gironzolai un po' cercando di darmi un contegno da comparsa in mezza centinaia di provinaturi che provavano passi di ballo, acuti, imitazioni di ranocchie, barzellette. Mi trovai tra le coppie ammesse alla selezione di family match, lo spettacolo di litigi in diretta. Si stavano allenando. Schivai per un pelo l'unghiata di una casalinga e lo sputo di un suocero. Molte cose erano cambiate da quando lavoravo nello showbiz. Un grosso camion venne avanti strombazzando. Guardando tra le fessure delle assi vidi una cinquantina di modelle stipate una attaccata all'altra. Una di loro cercò di infilare una mano tra le assi per richiamare la mia attenzione. Acqua, disse con un filo di voce. Ma subito il camion si allontanò ed entrò a tutta velocità nei cancelli del paradiso. C'è veramente di tutto qui, vero? Disse una voce profonda alle mie spalle. Mi voltai. Un uomo tutto vestito di nero, magro, con baffi sottili e l'aria di un ballerino di tango. I capelli erano fissati al capo da una colata di gel. Erano così lucidi che gli si specchiavano dentro le nuvole. Già, proprio di tutto, risposi. L'uomo, dal cielo in testa, mi offrì un sigaro profumato che accese con uno zippo incrostato di perline. Aveva l'unghia del mignolo laccata in viola e un anello di macadam, un vero sciccoso. C'è una vera confusione, Baol, disse l'uomo. Come mi ha riconosciuto, dissi un po' sorpreso. Nel mio mestiere ho imparato a vagliare le persone. Permette? Sono Amadeus Politropo, conversatore governativo di prima categoria. Vogliamo andare a bere qualcosa? Ci sedemmo a un bar all'aperto. Ordinammo un fernod e un permette. Mi sorrideva benevolo. Non sembrava proprio un agente segreto ribelle. Ciò provava che lo era. Sapevo che esistevano i conversatori governativi di sì, ma non ne avevo mai conosciuto uno. Naturalmente, disse Politropo. Il nostro mestiere è segretissimo. Il nostro compito è quello di andare in giro per la città, conversare. Attizzare con le nostre conversazioni l'argomento del giorno. Anzitutto, la furiosa polemica. Sa come dice la regola giornalistica se due persone dicono di litigare per le proprie idee. Sembrerà che abbiano davvero delle idee. Poi il premio dei premi. Il segreto della principessa. Il discorso dello stronzo. La lettera anonima. Interessano da troppo tempo e suscitano troppi interrogativi. Di tutto dobbiamo parlare. Siamo erbari di metafole e argozie e intenditori di stopper e pettegoli di bassa lega e teorici della complessità. Sappiamo essere irosi e dolci, competenti e arroganti, precisi e bugiardi. L'importante è che si chiaccheri e soprattutto che non ci si allontani dallo spirito dei tempi. Per questo ci pagano. E fate anche le spie. Naturalmente, disse Politropo sorseggiando, ma di rado non è sempre male che si parli male. E adesso di cosa parliamo? Anzitutto non parli sottovoce. Faccia ampi gesti con le mani. Si finga lievemente irritato. Scuota ogni tanto la testa in cenno di diniego. Qualcuno potrebbe controllarci. Sono abilissimi a captare irregolarità nelle conversazioni. Allora, dissi io puntando di un dito sulla spalla, mi vuole dire come posso avere un posto di rango in questo maledetto show? Così va bene. Allora il suo uomo, il contatto interno, lavora al reparto compositori. Conosco solo il suo nome in codice. Alice. Perché fa quella faccia? Lui potrà aiutarla, almeno all'inizio, per entrare lì dentro. Invece c'è un solo mezzo, infilarsi in un provino. Forse ce n'è uno adatto a lei. Ballerina? No, caviglie troppo grosse. Potrebbe fare la guarda del corpo rock. Lei ha combattuto nei reparti speciali di gioia e rivoluzione? Perché me lo chiede? Tanto sapete già tutto. Ottimo. Si presenti all'entrata undici, chiede del serpente e si faccia riconoscere. Obbedisco, dissi, ingollando l'ultimo sorso di Fernod. Stavamo per alzarci quando la mole di un uomo massiccio scurò il tavolo. Aveva un cravattino fosforescente e un sorriso da angiolone, ma lo sguardo era da iena. Era come se avesse scritto spia in fronte. Caro politropo, disse, posso sedermi al vostro tavolo? Il mio amico sta andando a un provino, disse calmo politropo. Ah, bene, bene, vi ho visti così accalorati nella conversazione, disse l'angiolone. Sport, immagino. Certo, parlavamo del gioco duro. E cosa ne pensa il suo amico, disse l'angiolone con sguardo inquietante. Il calcio è un gioco maschio, disse io, e un calciatore professionista guadagna fior di milioni. Vorrei essere io al posto suo e poi, se mi becco un calcio nella gamba mica sto a fregnare. Sa cosa guadagnano quelli in un giorno? Quello che io guadagno in un mese e in quale mestiere a vent'anni puoi averci già la Porsche e la villa sulle colline? E solo perché sai dare due calci e un pallone? E si lamentano anche. È tutta colpa della televisione. Le racconto cose che mi è successo ieri. Veramente io dovrei andare, sbuffò l'angiolone. No, no, aspetti dunque, stavo parlando con mia moglie della telenovela lotta per il potere, lei avrà certo visto l'ultima puntata. Allora c'è Esther, la bruna buona, che ha avuto un incidente in macchina con Nora, la bionda cattiva, e sembra morta bruciata, poi si salva e le fanno la plastica facciale. E senza dire che lei si presenza da Nestor, il suo uomo, che però è fedele a lei, cioè a lei, quella prima dell'incidente, e cerca di sedurlo, ma lui dice no. Allora lei si convince che lui l'ama ancora e si fa rifare una ri-plastica facciale per tornare come era prima. Ma intanto Nestor, disperato perché non sa più se ama lei o quell'altra con la plastica, va fuori strada con l'auto e gli fanno la plastica facciale, e sembra un messicano. Allora lei torna con la faccia vecchia, ma vede lui con la faccia nuova e non lo vuole più, e sa cosa sosteneva mia moglie? Ci vediamo, disse l'angiolone, e con tre balzi si dileguò nella folla, modestamente, quando voglio, anch'io, so essere un buon conversatore.